Se arriva la fiducia non c'entrano niente più le unioni civili, significa votare la fiducia al governo Renzi che è un governo disonesto intellettualmente e di poco, quindi non abbiamo nessun problema a respingere la fiducia al governo Renzi, fermo restando che ci siamo al 100% sulle unioni civili e se dovessero arrivare alla Camera ci sarà sicuramente il voto favorevole, ma dobbiamo capire ancora su quale testo sarà messa la fiducia, abbiamo capito questo, sappiamo il testo che uscirà alla fine del dibattito parlamentare se ci sarà un dibattito parlamentare, secondo me è affrettato dire che c'è un voto di fiducia sulle unioni civili, potrebbe esserci un voto di fiducia su un testo che ha solo il nome legge sulle unioni civili, quindi stiamo molto attenti e speriamo di non arrivarci, speriamo di arrivare ad un dibattito parlamentare che spieghi questa proposta di legge.